Il professore Arnone, serata conclusiva della quarta festa eccellenza italiana Europa qui al Vicolo Quid dove si degusterà con il professore Scandura un ottimo vino, il Grillo. Il Grillo della masseria Chianetta che nasce a Favara come vitigno autoctono importato dall'America, innestato da Barone Mendola è diventato uno dei vini più importanti al mondo, strutturato di gusto mineralizzato ha una grandissima capacità di sgrassare la bocca. Carmelo Scandurra ci spiegherà per bene le qualità organolettiche di questo vino ma soprattutto il vino come elemento unificante degli italiani all'estero. Tutto ciò ci consente di completare le tre serate con la filiera del turismo di ritorno, i cibi del Made in Italy certificati e oggi il vino che è la bevanda che collega tutti i popoli e rende una tavola più allegra. Un bilancio positivo quindi di questi tre giorni, stamattina la deposizione di Corona di Fiori in memoria ai caduti di Marsinelli, insomma un evento che ha vinto la partecipazione di tante persone anche provenienti dall'estero. Questa sera ad esempio in questo bellissimo posto abbiamo la presenza di tantissimi emigrati, delle loro famiglie, dei loro parenti, un elemento che questo ci fa sentire forti per il prossimo anno dove organizzeremo ancora la festa eccellenza del treno in Europa perché la riteniamo che l'unità, l'aggregazione, la socialità, la cultura e il Made in Italy possono recuperare quei punti di fila dell'economia isolana. Anche è un momento importante, le targhe donate alle eccellenze, alla memoria, insomma tanta gente che si è distinta emigrati all'estero. Abbiamo voluto distinguere e separare due le targhe alla memoria di persone che non ci sono più, alla quale abbiamo riconosciuto la forza e la capacità di rappresentare in momenti anche difficili l'italianità all'estero ma soprattutto le targhe all'eccellenza del treno in Europa date alle persone che all'estero hanno esaltato ciò che l'italiano, il siciliano, il favarese sa fare. Questo è un elemento importante perché noi ci distinguiamo per il saper fare, ci sappiamo comportare e soprattutto abbiamo una grandissima opportunità di recuperare le radici e la storia delle tradizioni attraverso le gesta uniche di questi nostri amici, di questi nostri fratelli. Oggi serata conclusiva del quarta festa dell'eccellenza italiana in Europa qui al Vicolo Quid per concludere l'evento. Ecco in che modo e il senso della sua presenza? Il senso della mia presenza è quello di parlare di vigne degli emigrati, un connubio che è quello della Sicilia, dei siciliani nel mondo che hanno portato la viticoltura e con tanto sacrificio hanno diffuso quello che è la cultura del vino in giro nel mondo. Il connubio oggi, l'unione vera e propria di questo territorio, questo territorio che è un territorio unico, ricordo sempre che la Sicilia ha delle particolarità eccezionali innanzitutto per il territorio, il territorio dell'Agrigentino è un territorio calcareo, zolfoso, gessoso, salino, un territorio dove esprime dei vini unici, dei vini che nel mondo possono essere riconosciuti proprio grazie a questo territorio e alla bontà di tanti vignaioli nella produzione del vino. Quanto è stata importante l'opera degli emigrati all'estero per conoscere i nostri prodotti, i nostri cibi e fare in modo che il Made in Italy si espandesse sempre di più? Sicuramente gli emigrati hanno portato la cultura siciliana nel mondo e la Sicilia è fondamentalmente cibo e vino. Beh, gli emigrati innanzitutto c'è un'emigrazione che è stata fondamentale, tutti gli emigrati siciliani è stata gente che si è integrata nel mondo, io penso all'Argentina, al Brasile, in America, in Australia, gente che si è integrata. Quindi sono stati sempre siciliani, italiani, ma siciliani con cui hanno portato le tradizioni e la cosa bella è che forse il collegamento con la terra natia è molto più presente all'estero che noi che siamo in Sicilia, quindi è bello poter parlare in giro per il mondo e conoscere tanta gente che è legata a questo territorio. Cosa gusteremo stasera? Beh, stasera gusteremo un vino dei vini del territorio, sicuramente il Grillo, dove tutto è partito, dove il Barone Mendola, grazie a questa città, bensì già 280 anni fa, produceva un vino che è diventato il simbolo della sicilianità e quindi vive il Grillo, viva Favara e viva il Barone Mendola. Il Sindaco di Aragona presenta questa giornata finale conclusiva della quarta festa dell'eccellenza italiana in Europa. Tra l'altro ricordiamo che Aragona è proprio gemellata con una città belga che è Lumiere qua. Sì, Aragona è gemellata con una città del Belgio che si chiama La Loviere, ci sono quasi 5.000 aragonese, noi diciamo che è un comune che ci sono più emigrati che residenti, perché nel tempo si è creata questa voragine che Aragona è un paese minerario e quindi con la chiusura delle miniere molta gente è stata costretta a emigrare nelle miniere di carbone del Belgio, della Francia, della Germania. Quindi io partecipo con piacere a queste iniziative, sono delle iniziative importanti, il vino è una cosa che unisce, che unisce a tutti. L'Italia, ma specialmente la Sicilia, ha delle eccellenze particolari come vino, il cosiddetto Nero d'Avola, il Grillo, che tra le altre cose è una vita autocotena proprio favarese, che è stata prodotta dal Marchese Mendolia. E quindi noi partecipiamo con piacere e speriamo di ottenere, come dice il flusso Arnone, un turismo di ritorno, ma anche avere i nostri concittadini di ritorno per poter ripopolare il nostro territorio che eme, soffre e inizia a soffrire ancora di più negli ultimi tempi, anche per un calo demografico, in quanto in tutti i paesi ci sono più morti che nascite e quindi è importante fare questo, è importante fare sentire la vicinanza nostra ai nostri compaesani che si trovano all'estero e cercare di coinvolgerli in delle iniziative importanti per far sentire la nostra vicinanza.